Bentornati sul mio canale, io sono Sarmex e in questo video vi mostro come sbloccare il medaglione a favore dell'albero madre più 2. E' uno dei medaglioni più forti e soprattutto utili del gioco in quanto aumenta notevolmente i punti vita, il vigore e il carico massimo dell'equipaggiamento. La grazia più vicina è quella delle terre proibite. Attenti però che il medaglione comparirà nella città di Leindel solamente dopo aver ucciso il boss di faromazzulla e aver ridotto in cenere la capitale. Il percorso per arrivarci è molto semplice, dalla grazia rientrate nella torre e prendete l'ascensore. Percorrete poi tutto il ponte fino a un ulteriore ascensore. Percorrete poi tutto il ponte. uscendo andate verso destra seguite la scalinata e vi troverete davanti un triplo boss ossia i tre spiriti dell'albero ulcerato vi consiglio di lasciarli perdere sono molto fastidiosi da combattere soprattutto se non sono da soli il medaglione invece lo potete trovare in mezzo al cortile sopra un tronco d'albero inoltre se avete intenzione di patinare il gioco questo è uno dei medaglioni che dovete ottenere per il trofeo dei medaglioni leggendari se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale ciao